Cambia il mercato del Paermo? Secondo me no, perché il problema riguarda il portiere, quindi tutto quello che ancora va fatto per completare la squadra credo che i dirigenti debbano continuarlo a fare. In aggiunta si è creata la necessità della sostituzione di Gomis, quindi secondo me sono due cose che non vanno insieme, che non condizionano l'una l'altra e viceversa. Il problema è capire su chi andare, perché Gomis era un tipo di portiere ideale per sia far crescere Deplanche sia nell'eventualità sostituirlo in caso l'impatto con il campionato per il giovane portiere fosse stato negativo. Adesso credo che più che altro bisogna trovare un portiere, un portiere che faccia un po' da, sì da supporto sempre a Deplanche, ma che possa eventualmente anche, sono stati fatti tanti nomi, nomi anche di portieri che hanno una storia, un po' datati, però bisogna vedere anche questi in che condizioni sono, in che stimoli hanno. Gomis era uno che aveva forti stimoli venendo a Palermo. Ho letto i nomi di consigli o qualche altro, che per carità ottimi portieri, però ormai sul finire la carriera è probabilmente non più stimolati, soprattutto in considerazione del fatto che il Palermo ha questo giovane portiere sul quale ha investito e che quindi vorrebbe dire di massima lanciare. Grazie. 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 Grazie.